Cosa devi fare? Perchè l'ho tarato ma mi sa che ho toccato su qualcosa Piano! Guarda lì che c'è le... Sto vedendo un attimo la marca direi I click vanno quasi bene ma mi sponso tutto a sinistra Qui c'è il fuoco Il di piede non è proprio un fantastico No 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 va bene Adesso la trovo Hai già posizionato quello lì? No questo no Sto usando il suo perchè vede attraverso i vestiti Sulco? Eh? Però devi puntarlo di là Esatto Ok Trovato Devi investire nel cavalletto Si 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 è come mettere le ruote tassellate a una Ferrari Sto d'accordo per me Porca puttata Il cavalletto fa cagare Fa cagare Eh Dio Dio Qua è il mio Quale piccolina? Quale piccolina? Sempre quella Sempre quella Mi ricordo che le ventate muovono Quando vuoi Si 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 Mi riradianti Si Allora Vabbè Se mi riradianti Sempre lì Eh Se nell'angolo in basso a destra Un centimetro sotto il filo ferro Sempre quella 695 Si Tu mi chiedo pure il mi riradiante Wow Il gara non ci può stare Allora Adesso sei in deriva Sei in alto perfetto Fuori piastra a destra di 2 cm A destra? Si a destra Dimmi te Dimmi te Ridalla che non ho visto Adesso sei in deriva perfetta ma sotto Un centimetro sotto Un centimetro sopra ferro filo basso Un centimetro sopra ferro filo basso Vai Anche due fuori E rimira E prova a tagliere così Anche una alla volta Ah no a sinistra Però c'è il suo perché Anche due fuori Si 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 ehi, buona, va bene anche perché dopo il pallino è che ha cambiato i colpi però è già così è già nell'M14 che c'è l'attacco di scena comunque a 350 metri con la diotra vado tutto lì poi c'è anche un cazzo coggiato su un sacchetto c'è anche l'ogliatore che stava dietro? no, quello non c'è niente un cazzo io ho tutto perché ho dieci anni che andavo con cerca metalli eh, merda allora, guarda che proviamo il carcano e se riusciamo a battere che ne devi sotto l'SD3 non arrivo però va bene no SD3 eh, ma quello che la fa uno come cazzo fa scusa? eh, forse non fa sesso eh beh, allora no allora ti tieni la 3 mi tengo la 3 anche io delle volte mi tengo la 5 ok no, ma come fa a fare uno scusa? lui fa uno c'è un altro ragazzo che fa c'è un altro ragazzo che fa c'è un po' lì lui fa due pesate e taglia il grano eh col coltello eh ah proprio ma allora c'è quello bidesimale si, c'è due bilanci si, io non ci penso neanche per costa una follia una follia si 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 a dove? sparo più basso si come mai prima sei andato in centro subito? ah non lo so ok sei a filo ferro sinistra 40 cm in basso fuori piastra ok quindi sono già dove spara Cristiano? spara la 3.50 la piastra 3.50 ancora lì sotto a sinistra eh vedi allora ok però oggi no tira a sinistra tiri a sinistra cioè sei a filo della del lato della piastra vai giù dritto 30 cm in basso non so dove viene raggiù sinistra comunque oh lei gol di acqua 13 però è passato dall'altra parte sopra l'angolo in alto a destra è passato dall'altra parte sopra l'angolo in alto a destra terminale 5.5 in teoria eh in teoria in teoria eh sì sì lo volevo giusto dirlo sì sì sei basso due dita a filo ferro in deriva perfetta oh te a dallas non avresti fatto un granché eh ho paura anch'io a dallas a dallas ero più di uno allora sei in alto perfetto un centimetro fuori a destra fino a ferro che cazzo è un centimetro due millimetri e invece i ghiacchiati più piccoli non devi da qui da qui da qui da qui e qua non va giù più basso di così non va ma basta lì che stiano un po' più fuori della trincia è loro esatto se tu non ti puoi muovere l'unica è accordarsi esatto se no come fai a prendere sì sì 4.28 eh sì sì 4.28 eh è tipico 4.28 a me infatti il Cosmi la quattro di io ho visto che avevi lo spessore è merda è da uomini duni quello lì eh che è voluto guarda se te volete che cosa è ha quattro pallino con la pallina con la pallina con la pallina con la pallina e che polvere hai usato parpo sono niente, va di...